Ben ritrovati insieme a una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo di oggi lunedì 19 giugno in apertura la cronaca sono stati notificati mattinata dal tribunale di Pescara così come annunciato nei giorni scorsi i provvedimenti di attenuazione della misura cautelare del carcere ai domiciliari per quattro indagati dell'operazione La Tana delle Tigri su un presunto giro di mazzette e droga nell'ufficio lavori pubblici del comune di Pescara tornano dunque a casa il dirigente Fabrizio Trisi che si è dimesso ed è già stato sostituito quindi non costituisce un pericolo per l'inquinamento delle prove L'imprenditore Vincenzo De Leonibus anche lui dimissionario dall'incarico di amministratore delegato della De Leonibus Edile e due accusati di aver rifornito cocaina Trisi e De Leonibus ovvero Pino Mauro Marco Aurelio che ha confessato la cessione di droga a Trisi e Vincenzo Ciarelli Secondo l'accusa De Leonibus avrebbe beneficiato di numerosi appalti per vari lavori dalla manutenzione delle strade a grossi cantieri sull'asse attrezzato e manutenzione di reti idriche in cambio di soldi varie regalie assunzioni di suoi amici e collaboratori a Pescara Energia ma anche di droga da lui stesso acquistata e condivisa con Trisi e due funzionari pubblici iscritte nel registro degli indagati anche altre figure tra funzionari pubblici esponenti della microcriminalità e per un unico episodio legato ad una cena elettorale il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri Ora andiamo invece ad Avezzano era stato operato qualche giorno prima alcuni familiari lo hanno trovato morto durante l'orario di visita all'ospedale di Avezzano La procura ha aperto così un fascicolo per accertare le cause del decesso di Riccardo D'Aurelio 64 anni di Sulmona Il magistrato di turno potrebbe decidere oggi stesso per l'autopsia l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo Nelle prossime ore si procederà come atto dovuto ad acquisire le cartelle cliniche del 64 anni l'inchiesta volta infatti a far luce su tutte le circostanze anche in ordine all'attività e alla vigilanza dei sanitari Intanto in città si moltiplicano i messaggi di Cordoglio per D'Aurelio agente penitenziario uomo di punta della scuderia della giostra cavalleresca e anche musicista Ed ora parliamo invece di Cappato a piedi dalla Fontana Luminosa fino all'emiciclo per consegnare le firme raccolte a sostegno della legge regionale sul fine vita Così una piccola delegazione di volontari guidata proprio dall'ex eurodeputato Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni Nelle scorse settimane era stata attivata una petizione popolare a sostegno dell'iniziativa legislativa 5.000 erano le firme necessarie ma la raccolta è andata ben oltre le 8.000 Tra le prime volte in Abruzzo ha ricordato Cappato che si attiva lo strumento delle leggi di iniziativa popolare Questo lo si fa su un tema che i partiti e la politica preferiscono evitare di affrontare Ed ora a Pescara le associazioni dei consumatori della regione Abruzzo esprimono forti perplessità e grande preoccupazione Sulla nuova dislocazione della Camera di Commercio Chieti Pescara che vedrebbe la nuova Pescara perdere i suoi uffici di via Conte di Ruvo E i servizi pur in presenza di oltre 300.000 abitanti tra residenti e domiciliati A rilevarlo il presidente delle due associazioni rispettivamente Luigi Di Corcia e Donato Fioriti Dunque tanti problemi sul tavolo Grande lavoro nel weekend invece per gli uomini del soccorso alpino e speleologico sulle montagne abruzzesi Quattro escursionisti sono stati recuperati tra loro anche un minore Avevano perso il sentiero in una zona impervia delle gole di San Venanzio nei pressi della riserva naturale di Raiano Il soccorso alpino e la guardia di finanza hanno raggiunto nella nottata i dispersi e poi li hanno portati a Valle Sane e Salvi Nella tarda mattinata di domenica invece è stato recuperato dal soccorso alpino e speleologico Un escursionista ha scivolato lungo il vallone Cornacchia in zona Franchetti Il recupero è stato effettuato con l'elisoccorso decollato dall'Aquila L'uomo subito trasportato in ospedale si era fermato poco prima di un salto di roccia Nel pomeriggio di domenica è stato infine recuperato un alpinista infortunato al terzo pilastro Intermesoli L'uomo subito trasportato all'ospedale di Terramo ha riportato solo la lussazione di una spalla Ed ora ancora la cronaca una tragedia sul viadotto Pietra Secca sulla A24 direzione Roma La scorsa notte una giovane residente ad Avezzano è infatti precipitato nel vuoto sul posto polizia stradale Vigili del Fuoco e 118 ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare La sua auto era ferma all'altezza del viadotto il corpo è stato recuperato nella scarpata sottostante L'ipotesi è quella del suicidio Paura invece sugli spalti dello stadio Mastrangelo di Montesilvano Un anziano ha accusato un malore e si è accasciato ad assistere alla partita C'era anche Giovanni Vasco comandante del locale di staccamento della Guardia Costiera Grazie alle sue manovre salvavita il comandante ha prestato i primi soccorsi al tifoso Che stava assistendo alla partita del nipote Prima il massaggio cardiaco poi l'utilizzo del defibrillatore L'uomo ha così ripreso a respirare Nel frattempo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Che hanno trasportato l'anziano in ospedale Che ora è fuori pericolo Andiamo a Sulmona Il comune stanza a soldi pubblici per una struttura che non è accatastata Ovvero che sulla carta non esiste Lo ha affermato Gabriele Bettoschi Rappresentante di lega ambiente nel corso della manifestazione Che le associazioni hanno tenuto davanti ai cancelli del canile comunale di Noce Mattei Un esposto sarà presentato sul tavolo della Corte dei Conti Per accertare il presunto danno erariale Paventato dalle associazioni Dal momento che il comune sta procedendo a istruire la gara Pur sapendo che la struttura non è iscritta all'albo regionale Le associazioni continuano a chiedere il sequestro E hanno presentato istanza di accesso agli atti Per l'adeguamento del canile E agli ultimi affidamenti svolti Sul posto per il presidio della manifestazione Sono intervenuti i carabinieri, polizia locale e polizia di Stato Che ha proceduto a verificare anche alcuni box Anche se l'area era già stata ispezionata lo scorso 3 giugno Dai nas di Pescara Che avevano rilevato alcune criticità Ed ora lo sport Rivi Sondoli si prepara ad abbracciare la Salernitana Parte il conto alla rovescia per il ritiro di Granata Nel piccolo centro dell'Alto Sangro In programma dal 10 al 27 luglio In queste ore il Comune sta procedendo Al restyling delle strutture Dove si svolgeranno gli allenamenti Mentre nei pressi del campo sportivo Sarà allestito una sorta di villaggio salernitana E chiudiamo con una notizia Notizia sul meteo Prima ondata di calore a soli due giorni dal solstizio d'estate L'anticiclone dal cuore del deserto del Sahara Si è analzato fin verso il bacino del Mediterraneo Inglobando anche l'Italia Continuerà a rafforzarsi A diventare sempre più caldo Almeno fino a giovedì Poi il passaggio di temporali violenti Da nord verso sud Che faranno stemperare un po' i valori massimi Che comunque raramente scenderanno Sotto i 30 gradi È davvero tutto per questa edizione Grazie per averci seguito Arrivederci